Ciao a tutti ragazzi, questo è un nuovo video e in questo video voglio farvi vedere un acquisto che mi è arrivato ieri e sono stra contenta, ho aperto solamente il pacco ma non ho ancora sbocciato niente perché volevo fare questo video apposta per farvi vedere anche a voi tutti i colori. Sono stra emozionata perché è un acquisto che volevo fare da un sacco di tempo e finalmente ho avuto il coraggio di farlo perché comunque è una spesa abbastanza corposa, capirete perché. Il pacco in questione è questo che ho già aperto e c'è tutta la bellissima cartina che ora trovieremo e ci sono un bel po' di cosine della Kat Von D, tutte tinte, tutta la collezione come potete vedere e ora la sbocciamo una a una dicendovi il colore e facendovelo vedere sulle labbra. Scusate per le labbra un po' strizza ai lati, sembrava tipo la faccia, le labbra del clown di Batman, ma già le avevo un po' strizza di mio e in più ho dovuto mangiare tipo la melograna così e quindi visto che è aspra mi ha proprio gonfiato i latini della bocca. Vabbè, non è il massimo per fare un lip swatch ma lo devo fare, quindi sopportate le mie labbra non tanto carine oggi. Pescherò a caso perché non voglio vederli neanche i colori, quindi iniziamo dalla prima che è Double Dayer si chiama, vedete che ha la sua confezioncina bellina bellina. Ora devo anche aprirne una a uno, odio aprire, ecco, ce l'ho fatto, è anche semplice da aprire per ora. Vi faccio vedere bene il packaging di ognuno, beh, solo del primo diciamo perché poi sono tutti uguali, sono questi, da Kat Von D. Ho il mio specchio bellissimo e ora andiamo a vedere che colore è. Mamma mia, io piango. Oddio, signori. Wow, allora, non mi impegnerò a stenderli benissimo perché ne ho tipo 14 o 18 da farmi vedere, quindi già le mie labbra sono così, ma mamma mia. Cioè, allora, a parte che si asciugano subito, è già asciutto, ma non attacca neanche, guardate. E' vellutato, sembra proprio che io ho un altro strato di labbra anche più nutrite di quelle che ho io in questo momento. Quindi questo era il Double Dayer, vi lascerò comunque il nome di ogni rossettino scritto da qualche parte. E questo è il classico rosso, proprio il primo rossetto rosso uscito, proprio un rosso puro, niente da dire su questo, è bellissimo. Bellissimo, adesso mi toglierò tutte le volte il rossettino per farvi vedere quello dopo. Vi ricordo che questo non è un video per farvi vedere quanto stanno bene a me i rossetti, quanto mi sta bene il rosso, quanto mi sta bene il viola, no. Perché magari in questi colori ho già visto un rosa che secondo me a me starà malissimo e magari no, magari sì. Non è per farvi vedere come stanno a me, ma è per farvi vedere come stanno sulle labbra, come la texture, com'è il colore, non se a me sta bene o meno. Quindi ovviamente sono pareri personali. È solo un lip swatch, quindi niente sul fatto di a me sta bene o a te no. Volevo solo precisarlo perché i commenti di questo tipo ci sono sempre, quindi vabbè. Vorrei anche precisare che in questo video le mie labbra moriranno, perché sento già che bruciano ed era il primo rossetto, quindi addio labbra, veramente mi ha voluto bene. Continuiamo con il prossimo rossetto che pesco. Questo è il bow, si chiama, bow narrow, ed è un marrone, quindi anche questo dipende se mi stanno bene, perché a me non tutti i marroni stanno bene. Però vabbè. Ma non è un marrone, è tipo un po'... forse mi sta bene. È tipo un torto, ora. Oddio, no, questo è tipo un rosa antico. Mamma mia. No, guardate. Sono tornata giù, ho proprio preso contro il mio labbro e... Questo quanto mi piace, è come l'ho già descritto, anche questo non appiccica se c'è asciugato, io sto andando in follia, mi piace un sacco. Questo è appunto un po' più tenue, un po' per tutti i giorni, lo adoro, bellissimo, niente da dire. Ne ho pescato un altro e questo si chiama Backstage Bambi. Bambi, ed è un fucsia, almeno da fuori così sembra un fucsia, ora... Sì, è un fucsia, ho visto. Classico. Avevo dei tupi. Che cavolo mi sta cascando? Cioè non ho neanche... Ah, il burro cacao. Ok, dicevo. Questo qui, strong, molto strong come fucsia. Qualcos'altro oggi. Mi fa malissimo. Perché non lo specchio capelli? Proviamo anche questo Bambi Backstage. Backstage Bambi. Ne ho preso pochissimo, tipo. Ok. Mamma mia, ragazzi, ne ho pescato una. Si chiama Ag... Cioè ora voi mi spiegate perché è questo colore. Non è arrivato prima. Per Halloween. Era perfetto, cavolo. Solo che, guardate. Vedete? È molto... Molto, molto, molto scuro. Cioè, molto boom. Adesso me lo do anche sopra. È proprio arancione. Allora non è che si può andare in giro con sto rossetto. Almeno io non ci andrei. Però... Cioè, almeno a me piace. Per ora sono abbastanza soddisfatta. Continuano ad essere tutti molto leggeri e molto... Non appiccicosi, insomma. Vellutati, molto comodi. Proviamo anche se è pescando. Lolita. E questo mi sembra un po' un violaceo. Andiamo a vedere com'è la confezione fuori. Assomiglia un po' a quello di prima, però più scuro. Adesso proviamo. Lilla scuro, questo, vedete? Tra l'altro applicazione top. Nessuna strisciata. Nessun... Nessun intoppo. Niente di niente. Applicazione top. In tre secondi, tra l'altro. Adesso non è data dei migliori, però comunque vedete che se anche avete poco tempo riuscite benissimo a fare una buona stesura. E questo è un colore violaceo, tendente al lilla, un po' viola. un po' più scuro, un viola un po' più scuro. Non è lilla. Boom. Vedete, è un color uva, direi, quasi. Mi piace un sacco questo. Poi io adoro i viola, quindi. Questo Si chiama Noble Ed è un pink Quindi Io con il pink non ci vado molto d'accordo Perché sono già chiara di carnagione Dopo sembro uno spirito Oh mamma A parte che questo si è proprio addensato sotto Vedete Che c'è un buchino vuoto No dai C'è una crepetta nel tappino qua Poverino sarebbe stato il viaggio È un po' sfigato questo Proviamolo ma Mi sa che non andrà bene come colore a me Magari lo userò come Per fare l'ombre dentro Questo è un pink Barbie Si è illuminato la stanza Si salva un po' Perché è sempre la stessa cosa Di quel colore di prima Che è un po' A parte che l'ho sbavato Perché Vabbè Diventa trasparentato Quindi non è quel pink boom Però a me non sta bene Cioè mi stacca proprio Da su qua sembra anche carino Ma in verità La luce del sole è proprio Non so se mi sta bene o meno Bisogna che veda Non lo so Però non mi convince tanto questo Sulla mia carnagione Per il resto è sempre uguale agli altri Stesura e tutto il resto Però Su di me non mi fa impazzire purtroppo Ma lo sapevo che io con i Sia con i marroni scuri scuri Che con i rosa Perché è troppo chiari Io non vado d'accordo Il prossimo che ho pescato È Berlin Questo mi ispira Sembra un fucsia Con una punta di rosso Da fuori Adesso vediamo anche la confezione Cosa fa vedere Poi vediamo veramente Il colore com'è Sì Sembra un rosso Però con la punta di fucsia Perché non è come l'altro Si vede E adesso andiamo a testare Se è veramente così O se è un fail Io adoro i rossi Sì questo esatto Non è un rosso Proprio forte come quello Il primissimo che abbiamo provato Ha una leggera puntina Di fucsia all'interno Si intravede Come potete vedere Già dalla confezione Si vedeva che non è un rosso puro Ma c'è Una piccolissima pigmentazione Di fucsia all'interno Che mi piace lo stesso Sarà che io adoro i rossi E mi piace come mi stanno Quindi niente da dire su questo Lo adoro Andiamo avanti Vediamo cosa pesco stavolta Speriamo non un rosa Adesso ve l'ho detto sicuro No Questo si chiama vampira Però è un marrone Quindi vedremo come mi sta Perché io con i marroni Non vado molto d'accordo Questo è veramente un marrone Ma non è tanto marrone Cioè è un marrone Sì però Sì però Quella puntina È più cioccolato Non lo so Vediamo Scusatemi sempre L'applicazione è molto frettolosa Ma davvero Se no non finisco più Comunque sì Mi piace Perché È più Quasi un bordeaux Che un marrone Quindi Riesco a portarlo E dai mi piace molto Lascio segni Infatti Quindi mi piace un sacco E niente Andiamo avanti Perché devo finire Tutti questi rossetti Tra l'altro Ne rimangono quattro Quindi siamo quasi alla fine Questo si chiama Lolita 2 Avevamo già trovato uno Con il nome Lolita Questa sarà Una tonalità un po' più chiara Un po' più scura Vediamo Sembra Sempre un rosso Oh scherzavo Sembra Vedete Sembra più scuro da fuori Molto più scuro Ma più o meno Però Sembra un Un marroncino Un marroncino Dalla fotocamera Sembra più rosato Ma in verità È un Marroncino Rosato Ma non come in fotocamera Mi piace Le mie labbra Io non le sento più Bellissimo È un nude Praticamente Steso sulle labbra Mi piace molto Perché ha quella tonalità Che io adoro Che è appunto quella A parte che sta di cioccolato Cioè tutti Non ve l'ho detto Ma sta di vaniglia Di cioccolato Di muffin Adoro E mi piace questo colore Perché è un rosato Sì ma non è rosa Che a me sta male È quel nude Un po' Un po' Un po' sul marroncino Chiaro Un po' sul beggiolino Lo adoro Il prossimo colore Si chiama Exorcise Ed è Da fuori Sembra un marrone Violaceo Non ho ancora trovato Un marrone puro Par fortuna Questo sì È quasi È praticamente Un bordeaux Un borgogna Scurissimo Adoro Vediamo Ce lo adorerò Anche sulle mie labbra Wow Cioè Questo è vita Questo è un viola Che io adoro Questo potrebbe sembrare La versione Tinta labbra Di Cyber Di Mac È lui Wow Adoro Questo è bellissimo Non so cosa dire Su queste cose Se non il colore Perché la texture È sempre fantastica Il colore Mi stanno piacendo Bene o male Tutti Wow A questo Più sensato Di tutta la mia vita Giuro Sembra che ho il buturino Fatto male Per fortuna Ne mancano due Oh Un rosa Che bello Si chiama Santa Sangre Madossa È pink Sta roba qua Guardate solo Da dentro Ho un po' paura Di questo Madossa Non so Se questo Mi starà bene Oddio Questo sì Che fluo Non lo so Perché io Con i rosa Non mi vedo bene Cioè Questi fucsia Molto accesi Allora Dalla telecamera Sembra anche Carino Adosso a me Allora Come colorazione È comunque Un rosa fluo Niente da dire Però su di me Non lo so Perché sembra Non una Barbie Dopo Secondo me Vabbè Comunque Questo è il colore Vedrò se riuscirò A fare un effetto Sfumato Con un fucsia Più scuro All'interno Mettere questo Però sono cose Che comunque Io non faccio mai Queste cose sfumate Magari per un'occasione Ci sta anche Questo colore Ma tutti i giorni No Però è bello Come colore Ultima Tinta Un altro rosa Ma vogliamo proprio Finire in brutto Quindi Questo si chiama Love Seek Tra l'altro Mi piace un sacco Il nome Però mi sa Che il colore Mi fa un po' paura Ecco appunto Un altro rosa Proprio molto pink Molto Barbie E io non so Come mi sarà Questo rosa Perché io Vabbè Sono nel mio punto Debole rosa Non mi regalate mai I rossetti rosa E mamma No Allora Se quello di prima Si salvava Questo no Questo è proprio Rosa caramella Questo io lo devo dare via Questo io non lo userò mai Guardate Non si vede Lo vedete che proprio Sbuca Dalla realtà Ancora di più Questo è il classico colore Che o lo ami O lo odi O lo usi O no Allora Se lo schiarisco molto Forse Riesco a salvarlo Nel senso Proprio come se fosse Uno sfumato Non lo so Perché Io lo vedo strano Su di me Il rosa Fatemi sapere Che vuoi qualcosa Perché io non me lo vedo bene Addosso Questi colori Io non li metterai mai Per me sono strani Questi colori Su di me Non lo so dire Perché adesso Che si asciugate È diventato un po' più scuro Bisogna vedere Se riesco ad usarlo Se no Lo regalerò Perché io Non ce la faccio Ad usare queste cose Se non me le vedo bene Adosso io Quindi figuriamoci di altri Vi saluto con questo rossetto Adosso Come se mi piacesse La follia No vabbè Comunque il colore è questo Bene o male A me non sta bene Ma ad altre sicuramente sì E questo era il mio video Spero che vi abbiate tenuto compagnia Fatemi sempre sapere Se questa tipologia vi piace Sotto con un commentino Vi mando tanti baci Nel prossimo video Ciao Ciao